Signori buongiorno, stamattina siamo già pronti col banco, eccoci qua, velocissimi ore 7 e 40, già pronti? Udite udite, oltre il nostro brasato con i pomodorini gialli e con l'arista con i funghi, una specialità Signori benvenuti in macelleria, eccoci qua con le grandi bistecche di stamattina Passiamo subito alla scottuna, beef costata, costata distossata, una costata classica centrale bellissima, due beef meravigliosi, parliamo di crema, non di carne, queste sono creme pasticcero non è carne, poi per quelli dal palato sopraffino passiamo alla chianina e alla fassona Signori qua parliamo di una carne di un livello superiore per i degustatori, per quelli che vogliono quel particolare in più nel gusto, qua siete serviti al top, guardate l'amarezzatura guardate il grasso più bianco, il colore della carne rosso rubino, meraviglioso, vi aspettiamo di soldi macellari con l'estate vogliono, noi rinasciamo come le fenici e ricordate, se una bistecca volete mangiare, è qua che dovete venire, altissimo livello, buon weekend e buon abbraccio iscriviti al canale